Ci tenevo a darvi un aggiornamento rispetto ai lavori che stiamo effettuando sul Parco Urbano, soprattutto sulla terza area dove domani dovranno essere posizionate degli arredi, quindi sarà un'area polivalente di socialità, di amicizia e di sosta soprattutto. Oggi ci sono dei lavori per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti, è stato trovato un serbatoio di amianto rimosso, c'erano delle particelle di alluminio che fortunatamente niente di tutto questo ha contaminato il terreno. Questo ci permette di andare veramente a grande velocità e ci permette quantomeno di cominciare a lavorare in quell'area che fino ad oggi era stata interdetta. Abbiamo ricevuto qui in Comune, assieme ai tecnici, il titolare della ditta perché aveva dei forti ritardi, sappiamo bene che il parco doveva già essere consegnato per febbraio, invece alla luce di questi ritardi ci siamo fatti fare un nuovo cronoprogramma, interverremo subito dopo Pasqua per il completamento della pista ciclabile che va verso il centro commerciale, per il rifacimento di una parte di pista ciclabile che invece è quella che collega i giochi a quest'area dove stiamo facendo la rimozione dei rifiuti, perché purtroppo con le cattive condizioni climatiche la pavimentazione non ha ben aderito quindi ci sono dei tratti che stiamo ripristinando e subito dopo, diciamo che entro il mese di maggio, inizieremo anche i lavori per quanto riguarda la casa del parco. Quindi un riuso anche di uno spazio straordinario policentrico all'interno del parco urbano che non solo rappresenta l'ingresso ma nello stesso tempo è uno spazio che verrà efficientato, verranno mantenute quelle che sono le mura perimetrali, ma non essendo a norma antisismica verranno presi tutti i provvedimenti cauti e dovuti proprio per migliorarlo nel suo interno, migliorarne anche la fruizione, constatato che quello spazio per noi dovrà diventare un'area ricreativa, didattica dove il quartiere si potrà ritrovare e potrà anche diventare un momento di educazione oltre che di ristoro. Mentre per i lavori della casa del parco necessiteranno naturalmente più mesi, invece il completamento diciamo di quello che è lo stralcio del parco urbano, quindi area verde, piste ciclabili e quest'area dell'arredo ci siamo dati come nuova destinazione all'estate e quindi veramente ci auguriamo di poter, ci immaginiamo già in quello spazio con momenti di picnic e di amicizie e di ritrovo di grandi incontri.